Quello che state vedendo è un lampione, vedete qui c'è l'albero, io sono un po' sdraiato, queste sono le mie gambe, c'è l'albero, l'alberello, questo è un lampione, aspetta un po' dov'è, vediamo un po' se riesco, dicevo questo è un lampione, questo è un alberello, questo è un parcheggio deserto, comunque è un lampione, non è che c'era gente che passava e diceva era un'astronavaliena, non è un'astronavaliena, è un lampione, io sono sdraiato, ora voglio leggere qualcosa, c'era gente che passava e diceva che era un'astronavaliena, io ve la rinquadro ma questo vedete, questo sono sdraiato, qui c'è le gambe, questo è l'alberello e questo è un lampione, buona giornata!